Le suore come figura, indipendentemente dal loro operato, sono sempre stato un punto fermo di riferimento per tutta la nostra comunità. Lo erano all'asila, lo erano in chiesa, lo erano all'oratorio, lo erano per tutte quelle persone che erano in cerca di un qualcosa che onestamente non riuscivano a trovare da altre parti. Personalmente ho avuto a che fare non solo con le superiori che sono passate nel periodo in cui io sono stato presidente dell'asilo. Sto parlando della direttrice sana, anzi due direttrici sana e della reverenda Salvi, ma anche tutti gli altri suori che sono passati ho avuto modo di conoscerle e di approfondire un rapporto con loro. E veramente sono sempre stato in grado, quando avevi bisogno di un qualcosa di più, di un qualcosa in aggiunta, di potertelo dare.